Professore, è della festa dell'uva che è stata una cosa credo pure a lei cara? Eh sì, è la festa dell'uva, diciamo, è soltanto un po' per casa, però è stata un'amministrazione del ponte, così si chiamava la mia amministrazione, che erano, diciamo, io, indipendente, ma indipendente, poi se l'amministrazione poi nella seconda legislatura è caduta, perché a un certo punto si è cominciata, diciamo, a litigare comunisti e fascisti, cioè quelli di destra e quelli di sinistra, eccetera, no, a un certo punto, con le dimissioni. E la DC in mezzo si è divisa? La DC stava all'opposizione, stava all'opposizione. Era già divisa, stava all'opposizione, era perdente. La DC l'aveva messa fuori io, ma non per le metroporate, diciamo, con la mia presenza, con la mia, diciamo, non appartenenza. Professore, quale fu l'episodio che fece cadere l'amministrazione? L'episodio che la fece cadere? E fu questo, la dimissione di prima, due, tre, quattro consiglieri. Le dimissioni, allora? Sì, sì, quindi arrivamo a 10 elemente. Il prefetto gli diede la leggezza, è così? No, no, mi ricordo io che è il prefetto. Certo, sì, però poi il prefetto l'ha invitato. Il prefetto mi invitò, mi diceva, ma lei si ripetono, no, non mai l'entico, io sarò. E allora gli dice, mi invitò un capore, perché invece di mandare il commissario, cioè lei manderà l'ordinaria amministrazione, quindi, va in parte. Fino al 10 agosto del 90, anzi, lui disse le lezioni, io mi andavo in belleggiatura. Cioè lei fece croce nera, diciamo, fece croce nera. Però con una compagine nuova, con una compagine nuova, non con chi aveva remato contro, ma con una compagine nuova, non era più stimolante. No, 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 non l'avevo trascurato. Però non ha di nipote. Qualcosa di diverso. Con la mia famiglia, con la mia famiglia, con la mia famiglia, con la mia famiglia. Ma c'è stata una natura. C'è stata una domanda. Perché poi, diceva, queste, 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 le ho vinto poi, chiaramente, però, chiama voi, chiama voi, chiama voi. Era una di queste, ognuno aveva la chiave del comune, apriva, entrava, era tutta la luce del giorno. Noi già stavamo sottespunti nel cose politiche, nel cose, diciamo, nascoste. Ma guarda, tu, chi è che di male, Vincenzo? Vincenzo, ma tu che di male, la chiave del comune, vedi? Pianto voi, insomma, eh no, ma no, dillo perché, Mascano, Francesco, Saverio, sempre Mascano. Professora, per complesso.